Grazie, grazie moltissimo per questo spazio, per questa opportunità di un saluto e di manifestarvi tutto il mio interesse personale e la mia attenzione, sia personale che l'interesse e l'attenzione della Fondazione per questo tema del consumo del suolo che è davvero strategico. Mi scuso anche per non poter poi rimanere nel corso della giornata con voi perché l'interesse è davvero tanto ma ci sono un po' di impegni che purtroppo oggi si sovrappongono. Quando io sono arrivata in Fondazione nel 2013 il Presidente, l'Avvocato Guzzetti, mi ha sottolineato con molta passione l'importanza di prestare attenzione a due temi. Uno era il problema della qualità dell'aria e di quanto questo problema facesse male in particolare ai bambini come emergeva da una ricerca condotta da varie università lombarde anche con l'attenzione di alcune associazioni che appunto Fondazione aveva promosso. L'altro era quanto stesse procedendo, a quale velocità stesse procedendo e quanto questo fosse un problema, il consumo del suolo. E questo emergeva da uno studio appunto, da una ricerca che il Politecnico di Milano aveva condotto nel 2011 appunto sul consumo del suolo in Lombardia, edizione INU, ricerca che era stata promossa dal Centro di Ricerca sul Consumo del Suolo, voluto, diciamo, pensato e organizzato da Legambiente e da INU e a cui Fondazione Cariplo, alla cui nascita Fondazione Cariplo aveva dato un contributo. Cosa diceva questo secondo rapporto del 2011? Diceva che ogni anno venivano consumati 10.000 ettari di territorio, venivano cementati nella nostra regione, 10.000 ettari sono due volte la superficie della città di Brescia e negli ultimi anni si era perso in Lombardia un quarto del suolo agricolo e tanta biodiversità. Di questi, infatti, di questi ettari persi, almeno la metà era un ambiente naturale e vegetazione spontanea che se ne erano andati. L'Avvocato Guzzetti era orgoglioso che gli uffici avessero colto questo tema, avessero, diciamo così, supportato un'attenzione da parte della Fondazione e mi chiedeva, a mia volta, come consigliera, di prestare attenzione. Molto noi abbiamo cercato di fare in questi anni, insieme con le associazioni, insieme col mondo della ricerca, insieme con le amministrazioni locali più attenti, più intelligenti su questo tema, abbiamo cercato di promuovere, di supportare buone idee, buone iniziative, che dimostrassero che il suolo, se conservato, se curato bene, se gestito in modo sostenibile, in modo, per l'appunto, intelligente, può continuare a svolgere delle funzioni essenziali, le funzioni essenziali per la nostra vita, che sono di matrice, come matrice, serbatoio di biodiversità e da qui abbiamo i progetti che abbiamo appunto supportato, sia in tema di conservazione della biodiversità, sia in tema di realizzazione, di manutenzione, di corridoi ecologici, appunto, a supporto della conservazione della biodiversità. Il suolo come produttore di cibo, se gestito con un'agricoltura, appunto, che con un approccio di agroecologia, conservi le risorse, piuttosto che dilapidarle, e da qui tutti i progetti che abbiamo contribuito a far nascere e che stanno ancora sviluppandosi in modo molto felice, nel Parco Agricolo Sud Milano in particolare, il suolo come regolatore del clima, col progetto, col bando comunitario esiliente, abbiamo proprio voluto, diciamo, promuovere un'attenzione ai modi per conservare, per sviluppare questa funzione importante del suolo, sempre più importante, alla luce dei cambiamenti a cui stiamo assistendo. Il suolo come bene comune, con il bando spazi aperti 2010-2011, poi 2012-2013, prima studi di fattibilità, poi realizzazioni, abbiamo voluto promuovere, supportare l'impegno dei cittadini per conservare, far vivere degli spazi aperti, come appunto come bene comune, in funzione degli interessi di tutta la collettività. Abbiamo quindi, anche noi, cercato di fare la nostra parte, tanti l'hanno fatta in questo periodo, perché, appunto, perché questo capitale naturale importante, che è questa parte di capitale naturale, questo fondamento del capitale naturale, che è il suolo, recuperasse la sua, conservasse e recuperasse anche le sue funzioni. Ci sarebbe piaciuto a questo punto vedere una legge regionale in fase di attuazione convinta dei punti di forza che aveva, e, diciamo, mettendo riparo ai punti di debolezza che aveva. Ci sarebbe piaciuto vedere una bella, una buona legge nazionale, che quindi facesse anche, diciamo così, da framework, da riferimento per le iniziative di carattere regionale. Ci sarebbe piaciuto vedere, finalmente, una direttiva sul suolo. Siamo ancora qui che, insieme a tanti, auspichiamo, ci diamo da fare perché tutto questo accada. Però, insomma, l'attenzione mi sembra che non sia accaduta. E quindi noi ci siamo e siamo ottimisti rispetto al futuro. Noi ci siamo. Questo ci sembra veramente una delle ottime cause per cui darci da fare per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Grazie a Sonia Cantoni e anche al ruolo che Fondazione Cariplo ha avuto in questi anni per sostenere progetti importanti sul suolo e sulle relazioni che, come si sanno, ormai il consumo di suolo ha anche su altri effetti ambientali molto pesanti, soprattutto sull'aria. E quindi mi sembra che queste relazioni siano sempre più evidenti e forti. Lascio Michele Camisasca, direttore generale Arpa Lombardia.